Il piano per raffreddare la Terra. Giganteschi ombrelli da inviare nello spazio per schermare il Sole. I scienziati propongono di lanciare un ombrello grande come l'Argentina, a 9 milioni di chilometri dalla Terra per schermare il nostro pianeta dei raggi solari. Suggerimento. Quanto siete stupidi. Perché se solo cominciate a leggere una cosa del genere significa che siete solo stupidi, addormentati. E vorrei poter aggiungere altro per insultarvi ma questo canale non lo permette. O forse stanno testando il livello di quanto siete addormentati. Questo mastodontico parasole dovrebbe essere composto da circa 2,5 milioni di pezzi e il team di ricerca si propone di costruire un prototipo di circa 9 chilometri quadrati entro il 2027. Vorrei vedere qui sulla Terra come si autoassembla una struttura del genere di soli 9 chilometri quadrati. Questa testata argentina invece scrive che si tratta di 2,5 milioni di chilometri quadrati e non di 2,5 milioni di pezzi. Vi stanno prendendo in giro. Osservate le immagini. In una sembrano dei pannelli solari. Nell'altra dei modellini di plastica. Gente se credete a queste info siete veramente perduti in mare e non sarete più assolutamente in grado di mettere i piedi a terra. La meravigliosa terra piana per liberarvi definitivamente dal male indotto da un mondo corrotto e menzognero gestito da insani maniaci come ha detto John Lennon. State credendo a tutto e tutti questi credo servono solo a creare paure. Sul secondo canale YouTube ho appena risposto a questo commento. I ghiacciai del mondo si stanno davvero sciogliendo. Ci sono spiagge in Italia che hanno perso anche più di 30 metri riducendosi. Canal 104 Plus attraverso il fornito indice alfabetico a cui si accede attraverso il sito www.tinelli.eu fornisce strumenti che sfatano questo credo. Ecco la mia risposta. Dovresti fare le tue ricerche invece di ascoltare le news del regime. Ti consiglio di andare su indice alfabetico e prendere visione di innalzamento del livello del mare fake news. Questo video ha raccolto i dati reali. Ghiaccio quando si scioglie non aumenta il livello dell'acqua. Uno e due. Riscaldamento globale. Ci sono diversi video. Oltre a indice alfabetico dove all'inizio suggerisco video interessanti fra le diverse migliaia che ho postato alcuni dei quali non si trovano sulle piattaforme di regime. Vi ricordo anche il libro in bianco e nero Il Risveglio. È a colori solo nel formato ebook e Canal 104 Plus Telegram per altre info stuzzichevoli e insolite. Grazie di aver guardato.